Sul Mediterraneo centrale è presente un campo di alta pressione che garantisce condizioni di stabilità atmosferica fino a sabato, domenica probabile transito di una saccatura di origine nord atlantica associata ad aria fresca in quota con conseguenti condizioni di instabilità. In Toscana venerdì 24 settembre poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, contemporanea densamente in mattinata sul centro-sud della regione e nel pomeriggio sulle zone settentrionali. Venti deboli da sud-sud-est, mari da poco mossi a mossi a sud dell'Elba, temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone interne. Sul territorio provinciale sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti in serata, allucche sulla piana, temperatura minima 13, massima 26 gradi, in Valle del Serche zone montane minima 11, massima 24, a Via Regge sul litorale minima 15, massima 25 gradi. Sabato poco nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità a partire dalla costa, temperature in aumento.